ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora come potete vedere sono all'aria aperta perché oggi ho potuto documentarlo perché questo mancava sul canale quindi ce l'ho potuto mettere praticamente oggi dopo oltre un anno ho ripreso ad allenarmi all'aria aperta perché veramente ragazzi non ce la stavo facendo più a stare così in casa sta pandemia proprio ci ha distrutto soprattutto psicologicamente perché non puoi stare un anno più in casa assolutamente come potete vedere c'è un cerchio c'è un nastro e c'è anche gli altri attrezzi scusate il fiatone ma sono stata fino adesso a fare gli esercizi al cerchio in cinque minuti di pausa ho detto faccio il video registro il video così almeno faccio qualcosa mentre mi riposo perché sono distrutta ragazzi sono distrutta sono tipo le 11 di mattina oggi tra l'altro è pure festa chieti se non c'era sta pandemia sarei andata alle giostre nel pomeriggio quindi avrei sicuramente fatto un altro video in cui mi sarei ripresa praticamente sulle giostre però visto che le giostre non vengono non per colpa nostra ma per colpa di questo brutto mostro venuto dalla scusate venuto dalla cina non è colpa di nessuno quindi purtroppo le giostre non verranno quest'anno spero nell'anno prossimo perché nell'anno prossimo se vengono le giostre mi piacerebbe fare un video del genere da mettere sul canale perché mancherà sicuramente e quindi ragazzi questo è tutto ci rivediamo al prossimo video